Ciao a tutti! Ecco un bel clippino, era un po' come ne facevo, erano anche chiesti, è tornato le cose non giuste per farli, al termine di un bel giro in bici, rilassante, circa 10 km fino al Lago Mago, immerso nella natura, tra acqua, montagne, le splendore metri di vrenta e il cielo, un bel cielo di metà settimana. Agostana, buona serata a tutti, tra le 19 e circa l'intervista ad una wedding planner cremonese Fremontopadano e ricordatevi che oggi compie gli anni Barbara Ferrazza, bravissima, simpatica, molto bella ed elegante, titolare di una specialissima profumeria in centro al Minzolo, andate a trovarla, pagina Instagram, Facebook e anche nel profumeria, fate gli auguri e soprattutto andate a fare shopping da lei, aperto anche alla sera, un abbraccio dal forno!